La ricerca di spazi di confronto e di progettazione comune tra studenti universitari e aziende del territorio è servita da stimolo per la sottoscrizione di un accordo quadro tra l'Università di Urbino e una grande impresa locale come l'IMAB di Fermignano. Due importanti realtà responsabili di offrire ai ragazzi l'opportunità di avere un futuro stimolante e gratificante nel momento in cui verrà terminato il percorso di studi e ci si affaccerà al mondo del lavoro. Collaborazione che dunque si struttura con IMAB, un'impresa che registra una crescita costante nel suo mercato quello del mobile dell'arredamento per cucina, living e zona notte, contando sotto di sé circa 800 dipendenti. Abbiamo la responsabilità di creare le condizioni affinché tornando a Urbino o rimanendoci per carità ci sia ugualmente per questi nostri ragazzi un futuro stimolante, un territorio che gli possa dare la possibilità di fare una carriera brillante. Già quando sono studenti devono poter comprendere bene quali sono le dinamiche aziendali, qual è la vita in azienda, quali sono le prospettive possibili per loro e quindi già nel triennio per magari poi scegliere una magistrale che sia più nelle loro corde e più vicina a quelle che poi sarà la loro aspettativa per il futuro. Fa bene anche alle imprese in termini di innovazione che loro possono sviluppare ma anche fa bene per i rapporti che si rafforzano appunto e permettono poi ai nostri studenti di entrare meglio in relazione con il mondo del lavoro attraverso esperienze anche prima della conclusione del percorso di studi per esempio attraverso degli stagi o anche la realizzazione della tesi di laurea che permette agli studenti di farsi conoscere, conoscere l'impresa e in questo modo creare appunto dei punti di contatto che possano permettere e facilitare l'inserimento del mondo del lavoro. Quali corsi universitari saranno prettamente coinvolti in questo progetto? Principalmente quelli di economia perché le tematiche sono molto vicine con gli interessi dell'impresa ma ci sono anche altri corsi che riguardano discipline per esempio più specialistiche mi riferisco per esempio ai corsi di geologia dove ci sono esigenze di esperti sui materiali che possono essere poi utilizzati anche nel settore dell'arredamento come nel caso dell'impresa con cui stiamo facendo l'accordo. Dopo anni di semina tra virgolette anche il mondo imprenditoriale sta avvicinando il nostro Ateneo perché insieme riusciamo a portare avanti i progetti per il bene di entrambi i partner perché i progetti riguardano la formazione, la ricerca e quindi è questo collaborare insieme che permette di far crescere entrambi. È vero che l'obiettivo nostro è quello di garantire ai nostri studenti le possibilità di trovare lavoro quindi la nostra formazione è una formazione che fornisce gli strumenti, non solo le competenze però già adesso abbiamo i dati di Alma Laurea che ci dicono che a tre anni dalla laurea dalla laurea abbiamo una quota di nostri laureati che sono già occupati magari con contratti a tempo determinato però è una quota superiore alla media nazionale.